è terminato l'incontro, 1 a 0 per la Virtus, 3 punti d'oro ecco, 1 a 0, 3 punti pesanti per la Virtus Castelfrendano ecco Leo, stremato, una spina nel fianco della difesa piano piano, meno male, 3 punti pesanti proprio 3 punti pesanti per giocare le prossime gare con più tranquillità ecco, le squadre fanno rientro in campo, nei spogliatoi, scusate l'emozione ma 3 punti sofferti, 1 a 0 per noi, ma abbiamo sbagliato anche un rigore apparato dal portiere, ecco finito, tutti lì ecco, ecco il nostro dirigente Adriano ecco, sì sì, c'è un po', grazie prego, fanno la fortina buona mattina